Bene, allora Le facciamo ladies first Vai Salute Oh non dite, non fate le solite volgarità Che sto filmando tu Che squadrini sono in questo mondo Che caccia è volgare? Che caccia è volgare? Prego Grazie Questo va su Youtube Ah, se non è volgato? No Bene Ok, diciamo che vediamo al nostro prossimo incontro E questa cosa In Sardegna Sardegna scosta ha tante cose in comune Per esempio senza pesce E facciamo tutto tipo piccolo e formaggio Ok, ma è adesso Ah no però Vabbè, chega a formaggio Il piccolo è a posto Ma troviamo Salute 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 Facciamo un po' bene, allora voi prendetevi qua voi due grazie, troppo buono allora io prendo la stessa faccia e io proprio fatemi filmare questi Christmas Cracker allora si afferra col nuovo visivo di tavolo e si e chi rimane con come fai in mano? questo è il mio regalo ah ma c'è una sorpresa è dentro e questo poi ma è tipo no, io allora lo posso conservare no, non lo puoi contare in aereo è vietato perché c'è un piccolo esclusivo e mi ha visto lo messo nel bagaglio si fa, è vietato perché non puoi poter esplodirli a bordo che non è ecco ecco, ho avuto meglio adesso bene se ti fa dove vuoi contare io? no, se, ne lo facciamo anche insieme allora allora, c'hai uno, due, tre però, c'è un piccolo esclusivo che gli kim? ecco merito oh, lo facciamoい non hai che dobbiamo aff höher ah 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 oh no ma c'è quello come ho il mio è come ho il mio e tu? e che cos'è? è per fare suppuse per i capelli Irene. Allora è vicino. Aspetta qui c'è tutta. Questa è la coroncina. Ah, ecco, qui ce la dobbiamo piattare immediatamente. Eh, non puoi piattare, ma scusami eh. Amorini, è tanto toccati a te eh. Stai mettendo la chiusura. Io devo filmare, quindi non posso. Ma te sta bene, tra l'altro non vorrei dirtelo ma c'è la coroncina rossa, che è perfetta. E' questo? E poi quello che è un lusso. Vabbè, adesso lo facciamo noi. Smetto di filmare. E non metterlo su YouTube però. Basta, ti l'hai prenduto? No, non devi fare niente, sta filmando. Ah, aspettate, eeeh, ditemi di nuovo il nome di questa. Christmas Cracker. Cracker. Uno, due, tre. Eh, c'è una potenza incredibile. Troppo forte. Uno, due, tre. Eh, però forza. C'è paura. Uno, due, tre. Grazie. C'è una paura terribile. C'è una paura terribile. Io che sono più schiavice. No, c'alla. Una trottolina. Eh sì. No, che bellino. No, lo yo-yo. No, no, no. Io gli uomini. E il mondo? Il giorno. Prova a te. Vai. Siamo a guardare io. Io e io. Ah, poi c'è una chico. Oh, ah, si avisa di forte. Ho capito cosa fai. Bene, come si spegne? Premi. Sopra? Certo.